Primo obiettivo centrato domani semifinale? Domani semifinale, oggi abbiamo giocato con l'approccio giusto, adesso domani sarà però molto più dura. Si fa sentire l'assenza di Sportic, secondo te peserà nel corso della manifestazione? Certo, Mario è il nostro centrale da 5 anni, ormai ci manca e come, ma adesso altri devono prendersi le responsabilità e cerchiamo di dare il meglio. Favorito insieme a voi? Favorito è chiaramente il Fasano, noi proviamo domani e prima a vincere questa semifinale e poi vediamo.